Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Maxi retata della polizia contro le gang giovanili sullo sfondo della musica trap. Arrestate 40 persone, 70 denunciate in 14 città. Ci sono anche Palermo e Catania. Con quattro camion rubati ed un escavatore si danno all'assalto di un supermercato di Acicatena nel Catanese, ma scatta l'allarme e la banda resta a mani vuote. Il ponte che divide sulle polemiche intorno all'opera interviene il ministro Musumeci. È giusto che le regioni compartecipino. Chiusura del centro a Catania. Piace ai pedoni, molto meno agli automobilisti bloccati nel traffico. Voli carissimi e con troppi disagi tra cancellazioni e ritardi. Le richieste di risarcimento dei passeggeri potrebbero arrivare a 9 milioni di euro. Porte aperte a Palazzo degli Elefanti a Catania per l'Influ Day. Vaccini gratuiti anche contro il Covid per tutti. Si punta a rafforzare la copertura per le persone fragili. Calcio Catania-Sorrento a porte chiuse di vieto di trasferta a Benevento per i tifosi rossazzurri. Domani il Messina Potenza caccia del terzo risultato utile consecutivo. Cresce l'allarme violenza giovanile e criminalità nelle metropoli italiane. Fra le 14 più pericolose ci sono anche Palermo e Catania che anche la scorsa notte hanno visto episodi di criminalità. Confermare questa tendenza anche l'operazione della polizia. Vediamo il servizio. L'escalation di violenza giovanile e criminalità continua ma l'esercito non arriverà a Palermo nonostante la richiesta avanzata dal sindaco e reiterata nei giorni scorsi e nonostante proprio Palermo sia al centro di vari episodi. Tantomeno arriverà a Catania. Arrivano però le operazioni di polizia coordinate a livello nazionale. Palermo e Catania sono proprio fra le 14 città italiane in cui la violenza delle baby gang impera. Almeno a giudicare dall'operazione condotta dalla polizia che ha portato ad arrestare 41 persone di cui 4 minorenni e denunciare a piede libero 74 persone, 24 delle quali minorenni. A Catania sono stati controllati i luoghi di abituale ritrovo di giovani sia nel centro cittadino che nelle zone più periferiche come Librino e San Cristofaro. Interessate le aree dove più spesso si sono registrati episodi come spaccio di stupefacenti, risse, furti, rapine e scippi riconducibili a gruppi di giovani. A Palermo i controlli sono stati indirizzati verso i luoghi della movida cittadina e nei pressi delle discoteche. Nel quartiere Ballarò sono stati svolti i servizi per il contrasto all'attività dello spaccio. Inoltre sono state eseguite perquisizioni nei confronti di giovani con precedenti penali per stupefacenti e per armi residenti nel quartiere Borgovecchio o nel centro storico. Complessivamente sono state tratte in arresto tre persone denunciate e altre tre in stato di libertà per possesso di armi da taglio e sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati circa tre chili di ascese. Complessivamente nell'operazione trovati e sequestrati anche tirapugni e sequestrato anche denaro. Assalto notturno ad un supermercato di AC Catena. Quattro camion rubati bloccano le strade ed un escavatore entra per prelevare la cassa continua. Ma scatta l'allarme e la banda resta a mani vuote. Tonino De Mana. La banda della spaccata colpisce ancora anche se resta a mani vuote. Dopo l'assalto all'ufficio postale di via Pacinotti a Catania il tentato furto ha avuto questa volta come teatro il supermercato Eurospin di via Nizeti nella frazione di San Nicolò ad Acicatena. Intorno alle tre di notte i malviventi hanno tentato di asportare la cassa continua dell'hard discount usando un escavatore che vedete in queste immagini. Non appena c'è stata la manomissione è scattato l'allarme che ha allertato la centrale operativa dei carabinieri. Sul posto è arrivata una prima gazzella che per raggiungere il supermercato si è dovuta fare largo superando anche uno sbarramento di mezzi posti al centro della carreggiata. Quattro camion rubati e collocati in punti strategici per consentire alla banda di lavorare indisturbata e al tempo stesso di rallentare le operazioni di primo intervento. Uno dei mezzi, lo vedete, è stato lasciato di traverso in via Leonardo Vigo in territorio di Acicastello, un altro è stato piazzato in via Nizeti, altri invece sono stati parcheggiati ad Acic San Filippo e alla Reitana bloccando di fatto le vie d'accesso per Acicatena e paralizzando per gran parte della mattinata la viabilità dell'Interland. Un modus operandi che però non è servito a fermare l'intervento delle forze dell'ordine che hanno sventato l'audace furto mettendo in fuga i malviventi sulle cui tracce adesso ci sono i carabinieri del comando provinciale di Catania. E a Palermo nelle stesse ore entrata in azione una banda spacca vetrine e colpa è stato messo a stagno nel negozio della Rinascente nella centralissima via Roma. I rapinatori dopo aver sfondato una vetrina con un'auto ha poi risultato rubata sono riusciti a portare via alcuni oggetti preziosi. Il bottino è ancora da quantificare. Sul ponte dello Stretto c'è in atto un dibattito vivace anche con frecciate e polemiche ma in azione c'è anche chi cerca di gettare acqua sul fuoco. Francesco Triolo. I pompieri erano già intrati in azione per disinnescare una polemica, quella sui finanziamenti per il ponte sullo Stretto accese ed alimentata a livello nazionale e regionale. Ma intanto Matteo Salvini ha parlato dell'infrastruttura alla Convention, l'Italia dei Sì 2023-2032 ed in maniera piuttosto chiara. Ci sarà una marginale collaborazione delle regioni, non più del 15%, una cifra che mi sembra ragionevole. Se per le Olimpiadi di Milano-Cortia, Lombardia e Veneto hanno contribuito, non vedo perché Calabria e Sicilia non dovrebbero farlo per un ponte che collega Calabria e Sicilia alle sue parole. Nel pomeriggio era stato il ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, a margine della festa di Atrevi, a dire per la Sicilia il ponte sullo Stretto è un'infrastruttura assolutamente necessaria e prioritaria se accompagnata alla modernizzazione di altre infrastrutture strategie come quelle viarie e ferroviarie. Credo si tratta di due punti di vista diversi. È giusto che le due regioni partecipino alla realizzazione del ponte, ma è anche giusto che lo Stato dia il suo contributo senza nulla togliere le legittime attese dei territori, ha detto. Prima si era espressa la sottosegretaria dei rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, che aveva cercato di cucire la frattura tra Forza Italia e Lega. Dove nasce l'equivoco? L'equivoco nasce da un ammendamento del governo alla legge di bilancio che aumenta di 300 milioni lo stanziamento della Sicilia che era stato preventivato dal presidente Schifani. Io credo che tutto questo possa essere superato attraverso la stesura dell'accordo di coesione che verrà negoziato con il ministro Fitto, accordo di coesione che servirà a decidere, a stabilire tutti i progetti finanziabili col fondo di sgruppo e coesione per la Sicilia nel ciclo di programmazione 21-27. Alla Sicilia aspettano più di 6 miliardi di euro. Se la regione siciliana, contraria alla compartecipazione di 1 miliardo e 300 milioni da parte dell'isola, è schierata da una parte, la Calabria dà appoggio al governo, partecipando con una quota di 300 milioni ed ottenendo, grazie alle interlocuzioni del Presidente Occhiuto con il governo, quasi 4 miliardi di finanziamenti per la mobilità. Veniamo alla chiusura del centro di Catania, decisa dal sindaco Trantino, a Piaccia e ai Pedoni, molto meno gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico. Allora, il servizio non è ancora pronto, andiamo avanti con altri servizi. Parliamo di scorie radioattive in Sicilia, anche se c'industria a Trapani alza le barricate. Il Presidente Pellegrino parla di ipotesi assurda e superficiale. No alle scorie radioattive in Sicilia, anche se c'industria a Trapani non ci sta ed è pronta alle barricate. Due, i siti siciliani ritenuti idonei a ospitare il deposito di scorie nucleari, nella frazione di Fulgatore, nel comune di Trapani e a Calatafimi-Segesta. Riteniamo che sia un'ipotesi inaccettabile e che poggi su una valutazione assolutamente superficiale di quelle che sono le condizioni che permettono la realizzazione di tale deposito. Rispetto a quelle eventualità noi siamo davvero disposti a fare le barricate, ci stiamo già muovendo di concerto con gli altri rappresentanti del territorio affinché si possa raggiungere l'obiettivo di vedere stralciati i siti siciliani e quindi trapanesi dai territori possibili destinatari di questo deposito. L'area del deposito di 110 ettari potrà contenere 78 mila metri cubi di rifiuti radioattivi che solo dopo 300 anni saranno smaltiti. Se dovesse accadere quello che si paventa è chiaro che verrebbero tagliate le gambe ogni residuo a possibilità di risalita economica del nostro territorio. Ieri a protestare per prima le amministrazioni comunali, il sindaco di Trapani, Tranchida, non si dà pace, ribadisce che era stato presentato nel 2021 un documento che aveva avuto anche il parere favorevole della regione nel dire no al sito. E anche le associazioni dei feder consumatori, sindacati CGL e Cisle Will dicono di non volere che la Sicilia diventi un deposito pericoloso. Volare in questo periodo sembra davvero un'impresa impossibile. Cresce il numero dei voli cancellati o in grave ritardo e con esso anche le richieste di risarcimento da parte dei passeggeri lasciati a terra. Maglio Viola. Non solo voli estremamente cari tanto da indurre a rinunciare al viaggio ma anche servizi scadenti e troppo spesso ritardi e passeggeri che restano a terra. E' quanto emerge dallo studio di Italia Rimborso che si occupa di assistere proprio i passeggeri per ottenere i risarcimenti stabiliti dalla carta del viaggiatore. Secondo gli esperti, ammontano a 9 milioni di euro le possibili richieste di risarcimento per ritardi o cancellazioni di voli aerei o per via dei disservizi previsti durante queste festività natalizie. Un trend certamente in crescita nell'ultimo periodo è destinato ad aumentare nelle prossime ore con l'aumento del flusso dei passeggeri in volo. Basti pensare che nei primi 14 giorni di dicembre i disagi aerei denunciati equivalgono a quelli riscontrati nell'intero mese di novembre. Nella maggior parte dei casi le responsabilità ricadono proprio sulle compagnie aeree. Per questo i passeggeri si possono rifare grazie al regolamento europeo ottenendo una compensazione pecuniaria che oscilla fra i 250 e i 600 euro. Una sorta di risarcimento richiedibile se il volo in ritardo supera le tre ore o se il volo viene cancellato con un preavviso inferiore ai 14 giorni. Giornalmente, afferma Felice D'Angelo, CEO di Italia Rimborso, veniamo contattati da passeggeri che denunciano un disservizio aereo. Prevediamo 9 milioni di euro richiedibili di risarcimento per i viaggiatori e per le imminenti festività senza tener conto dei disservizi già registrati nella prima metà di dicembre. E adesso vediamo il servizio sulla chiusura al traffico del centro di Catania con Emanuela Corsi. Sono passate da poco le 17, Piazza Sesicuro è stata transennata e chiusa al traffico veicolare alle mie spalle. Vedete appunto delle auto dei vigili urbani e dei presidi per deviare il traffico verso via Manzoni. Adesso tutta quest'area è diventata pedonale, così come è voluto dall'amministrazione comunale, partirà oggi questo esperimento, durerà fino a domenica e poi si replicherà anche nella prossima fine settimana, chiaramente fino alla vigilia di Natale. Per due weekend cambia la circolazione nel centro di Catania con l'attivazione dell'isola pedonale in Piazza Sesicuro, una novità che piace soprattutto ai residenti della zona. È bellissimo, poi io abito proprio qui in Vietnea, quindi per me è stato fondamentale non avere le macchine sotto casa. Con un neonato sì, assolutamente, io passeggio tutti i giorni. Perché abituati che qua passano tante macchine, è strano. Però è meglio o no? Sì, perché adesso le persone possono passeggiare tranquillamente. Veramente, è una bella idea. Se nell'area di Piazza Sesicuro passeggiare diventa ancora più piacevole, è discorso diverso ai quattro canti, dove il traffico veicolare e pedonale sarebbe in tilt senza l'intervento dei vigili urbani. Qualcuno propone quindi anche la chiusura di via San Giuliano. Chiudevano tutto e basta, almeno. Guardi qua, tanto la gente, visto che passano lo stesso. Secondo me sì, perché c'è troppo caos. Cosa vi aspettate da questo esperimento, diciamo, nel periodo delle feste? Innanzitutto è un messaggio che vogliamo dare ai nostri concittadini catanesi, è quello appunto di non venire al centro storico con la macchina, quindi utilizzare quando più è possibile i mezzi pubblici. Questo cambio della circolazione debutta tra pareri favorevoli e contrastanti. Forse qualcosa verrà corretto e rivisto. Ad esempio, come vediamo in questa scena, ogni volta che un mezzo pubblico deve entrare nella zona pedonale, qualcuno deve spostare le transenne e rimetterle poi al loro posto. Vedremo dunque come andrà questo esperimento nel fine settimana. Intanto ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità. Torniamo dopo con altre notizie. Il centro Morgani di Catania è stato condannato a risarcire per complessivi 720 mila euro i familiari di un 73enne deceduto nell'ottobre del 2021 per i postumi da un'insufficienza da shock settico. L'anziano era stato ricoverato nella struttura per un intervento, ma è subentrata un'infezione. L'uomo è deceduto circa un mese dopo il ricovero. Ammontano a 8 milioni e 600 mila euro le risorse aggiuntive destinate alle aziende sanitarie provinciali della Sicilia per interventi effettuati dalle case di cura nel 2023. Il decreto rientra nel piano regionale per ridurre le liste d'attesa approvato dalla Regione. La prossima settimana, inoltre, sarà adottato il decreto che stancisce l'accordo con le strutture private ambulatoriali. Porte aperte al Palazzo degli Elefanti, a Catania, per l'Influ Day, vaccinazione gratuita e senza prenotazioni per tutti. Desiree Ferlito. Palazzo degli Elefanti apre le porte alla campagna vaccinale. Grazie all'ASPO di Catania, l'amministrazione Trantino ha messo a disposizione i locali dell'URP, ufficio relazioni con il pubblico, per un Open Day per la vaccinazione anti-influenzale e anti-Covid, gratuita e aperta a tutti, senza alcuna prenotazione, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la copertura vaccinale per le persone più fragili e ad alto rischio. Confermata anche quest'anno la possibilità della cosomministrazione in contemporanea dei due sieri. Doppio vaccino oggi? Doppio vaccino oggi. Volevo farlo e l'ho fatto, assolutamente. Sono convinta della bontà della vaccinazione, assolutamente. Mi è sembrata un'ottima opportunità questa, dell'Open Day vaccinale. In realtà l'ho proposto a molti coetanei che sembrano però scettici. Di regola non faccio il vaccino anti-influenzale perché grazie a Dio sono abbastanza forte. Lo farete? Che ne pensate? Penso che a questa età se ne possa anche fare a meno. Poi magari per una persona un po' più grande la cosa cambia. L'immunizzazione contro l'influenza, lo ricordiamo, consente non solo di prevenire le forme gravi e complicate del virus stagionale, ma permette anche di ridurre la mortalità prematura nelle fasce più fragili della popolazione. Reputo che sia opportuno e giusto, che un po' tutte specie, i soggetti fragili, categoria alla quale purtroppo appartengo, si evitano di andare incontro, poi ha problemi ben più seri e gravi. Mi sto convincendo che sarebbe necessario, vista l'influenza che c'è in arrivo. Può essere eseguita presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, oltre che presso gli ambulatori vaccinali dell'ASPO e di Catania, previa prenotazione online. Da oggi la Sicilia è ufficialmente a Regione Europea della Gastronomia 2025. Prima in Italia a ricevere il prestigioso riconoscimento assegnato dall'IGCAT, l'Istituto Internazionale che promuove la cultura e la gastronomia. La cerimonia di consegna del titolo si è svolta stamattina nella sede dell'Incremento Ippico. la presidente dell'IGCAT si è soffermata sulle caratteristiche della nostra regione. Il pluralismo delle culture, la bellezza della natura e la qualità dei prodotti, ha detto, rendono la Sicilia una delle destinazioni gastronomiche più interessanti. Ed evidentemente ne è convinto anche Mick Jagger che è tornato nuovamente in Sicilia. In questi giorni si trova a Siracusa, da dove ha postato alcune sue foto scattate proprio in città, anche nella zona archeologica le stiamo vedendo e le ha pubblicate sui propri profili social accompagnati dalla frase taking a break in Italy and doing some ready ovvero faccio una pausa in Italia e scrivo un po'. Evidentemente scrive canzoni. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Eccoci al calcio. Catania-Sorrento si giocherà a porte chiuse. La decisione è arrivata dall'osservatorio sulle manifestazioni sportive e non è l'unico provvedimento. Mentre la squadra prepara il posticipo, il presidente Pelligre è in città per parlare di mercato. Francesco Triolo. Catania-Sorrento si giocherà a porte chiuse. È la decisione dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive che ha dato indicazione alle autorità del territorio, Prefettura e Questura di disporre il divieto di apertura del Massimino per la gara in programma lunedì sera alle 20.45. Una decisione che nelle ultime ore sembrava quasi attesa dopo i gravi incidenti che si sono verificati mercoledì sera a margine nella partita di Coppa Italia tra Catania e Pescara. Per quegli scontri dove sono rimasti feriti diversi agenti e le forze dell'ordine con prognosi di 15 giorni sono stati arrestati due ultrassi del Catania. Ma non è l'unico provvedimento preso. I tifosi rossazzurri sarà vietata anche la trasferta a Benevento. Una decisione, quella del Cams, quasi prevedibile dopo quanto accaduto e che penalizza tutta la città e la parte buona della tifoseria. Senza tifosi, la squadra di Lucarelli prepara la gara contro il Sorrento in cui i rossazzurri vogliono tornare alla vittoria in campionato riscattando la sconfitta nel derby di Messina. Intanto in queste ore il presidente Pelligre è in città e sta effettuando un ampio giro d'orizzonti per programmare il 2024. In particolare si sta parlando di mercato sia in uscita che soprattutto in entrata dove si prevedono sei o sette nuovi innesti. Insomma, prima devono essere piazzati i giocatori che non fanno parte del progetto e nel contempo saranno colmate le caselle vuote. Tra le uscite ci sono quelle di Sarau, Versi e il Trapani, Livieri che potrebbe tornare al Pisa, mentre per Dubicas c'è l'ipotesi Juve-Stabbia. Il difensore del Catania, Francesco Rapisarda, sarà ospite questa sera di Preview, la nostra anteprima in onda alle 20.45, condotta da Marco Carli. Analizzeremo il momento del rossazzurri dopo il passaggio del turno in Coppa Italia e con i consueti approfondimenti tattici ci proietteremo al match di lunedì con il Sorrento. Domani pomeriggio impegno a potenza per il Messina in uno dei due anticipi della diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Giallo-Rossi ha la ricerca del terzo risultato utile consecutivo. Sergio Colosi. Tra vittorie scaramanzie di giugno a novembre e rilancio di dicembre, il Messina cerca continuità e identità nella trasferta di potenza, divenuta scontro diretto per la salvezza e per i demeriti dei Lucani, costruiti con altri obiettivi. Giacomo Modica prosegue il personale silenzio stampa, privilegiando i fatti del campo alle parole davanti alle telecamere. Le vittorie contro Monterosi e Catania, figlie anche di Episodi, gli danno ragione, ma il tecnico di Mazzara attende ulteriori progressi contro un potenza in forte crisi. Dopo due soneri, prima di Alberto Colombo e poi di Franco Lerda, scartato anche Giuseppe Raffaele in attesa della terza scelta, panchina rosso-blu al vice Pietro De Giorgio alla terza presenza e stagione. Tifoseria in contestazione con la società e quadro completato dall'assenza del bomber Caturano, ex giallorosso. Numeri stati d'animo di quella che potrebbe sembrare un'occasione da cogliere al volo, ma il Messina non è squadra da fare progetti, avendo abituato i tifosi a continue sorprese. Torna disponibile Polito, Modica però potrebbe confermare l'undici di sabato scorso, oppure inserirlo a destra in difesa, con Zunno in attacco, per rispettare la regola degli under, tanto cara al presidente Sciotto, e premiarlo per la mezz'ora contro il Catania. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.